Il Palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale, è uno dei monumenti più importanti e visitati di Palermo. Costruito intorno al X secolo dagli emiri arabi, fu poi trasformato dai re Normanni in una residenza suntuosa e una fortezza. Nel giugno del Palazzo si può ammirare la splendida Cappella Palatina, famosa per i suoi mosaici bizantini e diverse sale storiche come la Sala d'Ercole e la Sala di Re Ruggero. Dal 1946 è sede dell'Assemblea regionale siciliana. La Sicilia è una regione autonoma ed è la più grande regione d'Italia. La lapide che si trova davanti alla facciata del Palazzo dei Normanni a Palermo è un'imponente testimonianza storica. Essa commemora la liberazione della Sicilia dagli arabi da parte dei Normanni. Questo evento segnò l'inizio di un periodo di grande sviluppo culturale e architettonico per la regione, sotto la guida dei re Normanni. Al piano terra del palazzo si trova il cortile Macqueda, un chiostro con tre loggiati che rappresenta un esempio significativo dell'architettura rinascimentale. Questo cortile è stato utilizzato per secoli come spazio di rappresentanza e di incontro. All'interno del Palazzo dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale, si trova il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas. Questo museo è uno dei più importanti della Sicilia e offre una vasta collezione di reperti archeologici che raccontano la storia dell'Isola. All'interno di questo imponente palazzo o Palazzo dei Normanni si trova anche la Cappella Palatina, che avremo modo di poterla vedere in un secondo momento. Ceramiche presenti nel Palazzo dei Normanni a Palermo risalgono principalmente al periodo normanno che va dal X al XII secolo. Alcune delle ceramiche smaltate, come quelle trovate nelle fornace di Marzara del Vallo e Piazza Armerina, sono attribuibili all'era islamica che precede l'arrivo dei Normanni. Nei sotterranei del Palazzo dei Normanni a Palermo si trovano reperti che risalgono diverse epoche storiche. Tra i più significativi ci sono le fortificazioni puniche, databili tra il V e l'VIII secolo a.C. Questi resti rappresentano le fondamenta dei primi insediamenti fortificati di Orissimo Fenicio Punico, che costituivano il nucleo sociale e politico della Primitip. Città di Palermo è un fascinante viaggio nel tempo mostrando le stratificazioni storiche che hanno caratterizzato il sito, dalle origini fenice fino alle successive dominazioni greche, romane, bizantine e arabe. Uno dei giardini più noti è il Belvedere di Monreale, un luogo perfetto per trascorrere momenti di relax immersi nella natura. Questo giardino è apprezzato sia dagli appassionati della botanica che dagli amanti dell'architettura. Queste carrozze risalgono principalmente al periodo borbonico, ovvero tra il XIII e il XIV secolo. Queste carrozze erano utilizzate dai vicerei e dai nobili dell'epoca per spostarsi all'interno della città e durante le cerimonie ufficiali. Siamo partiti molto presto per raggiungere questa località perché sapevamo che era molto gettonata dai terrestri. In effetti abbiamo aspettato un tot di tempo perché arrivi il nostro torno. Il meccanismo era molto semplice e anche ben studiato dovuto che c'era un contapersone e in funzione alle persone che uscivano potevano entrare a suo tempo altre persone. Per cui c'era questo passaggio molto importante e poi si vedeva che la gente usciva molto raramente, sicuramente perché c'era una ragione ben precisa che vedremo più avanti. Mentre si aspettava il turno per poter entrare, io ne ho approfittato per raccogliere queste immagini che si trovano all'interno di questo chiostro. Una cappella palatina e una basilica in stile sicuro romano. Fu costruita per volere del re un gero secondo. Il soffitto in legno tagliato è dipinto in stile islamico e la combinazione unica di elementi architettonici o non i bizantini e islami. Dal 2005 la cappella palatina fa parte dell'umanità dell'UNESCO. I mosaici della cappella palatina rappresentano una vasta gamma di scene bibliche e nel Vecchio Testamento raffigurano scene della creazione, un paradiso terrestre, nel Vecchio Testamento i mosaici raffigurano scene della creazione, il paradiso terrestre, la storia di Noè, Abramo e Giacobbe. Nel Nuovo Testamento i mosaici rappresentano la vita di Gesù, inclusi la natività, i miracoli e la passione. Per quanto riguarda invece gli elementi allegorici, i mosaici con simboli come il quadrato che rappresenta i quattro elementi e il numero otto che simbolizza la risurrezione e ingiudizia universale. Questi mosaici non solo decorano la cappella, ma servono anche a trasmettere messaggi religiosi e morali ai fedeli, molti dei quali all'epoca non sapevano leggere. I mosaici della cappella Palatina di Palermo sono composti da migliaia e migliaia di tessere dorate. Queste tessere ricoprono quasi ogni superficie della cappella, creando scene del Vecchio e Nuovo Testamento, oltre a raffigurazione di personaggi biblici, angeli e santi. L'arte bizantina è davvero fascinante. I mosaici della cappella Palatina sono un esempio straordinario di questa tradizione artistica. La cappella Palatina di Palermo attirò un gran numero di visitatori ogni anno. Nel 2014, dopo un'era censimento, ha registrato circa 370.000 visitatori. Dopo la proclamazione come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, dal 2015 in poi si sono triplicati i visitatori, raggiungendo quasi un milione di persone all'anno che hanno visto questa bellissima opera bizantina. La cappella Palatina di Palermo misura circa 32 metri di lunghezza e 12 metri di altezza e divisa in tre navate separate da colonne in granito e decorata con splendidi mosaici dorati che coprono quasi ogni superficie. L'arte bizantina è una delle tradizioni artistiche più longeve e influenti della storia, sviluppatasi a partire dal IV secolo d.C. fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453. Beh, in questa caratteristica fanno parte lo stile idealizzato, l'uso dell'oro, il significato religioso. Il teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo è il più grande teatro lirico di Tang e uno più grande d'Europa. Inaugurato nel 1897, il teatro è famoso per la sua straordinaria acustica e la sua architettura neoclassica eclettica. Il teatro ospita una vasta gamma di spettacoli, tra cui opere, concerti e balletti. Il teatro Massimo di Palermo ha una capienza di circa 1247 posti ed è per questo che lo rende il più grande teatro lirico d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. Siamo arrivati finalmente a Montreale, come si può vedere dalla Torre Campanaria, sono le 10 e 20. Praticamente diamo il piedazzo, circa un'ora in Esga da Palermo per arrivarsi con i MediTools. Palermo è la città molto trafficata, preferisco abitare a Modena. Abbiamo oggi scontro questa bellissima catedrale che andremo a visitare insieme a Zausaru. Sei contento già caro di essere arrivati finalmente? Infatti, questo è il nostro, lo sono io, questo è il mio. Ci conosco, ti riconosco, grazie. Però davanti alla cattedrale di Montreale si trova la fontana del Tritone. Questa fontana, situata al centro della piazza Vittorio Emanuele, è di forma circolare e presenta una vasca in mar. Al centro della vasca c'è una scultura di Mario Lutelli datata 1881, che raffigura un uomo, il Tritone, che lotta e vince contro la furia dei draghi emersi dalle acque. All'ingresso della cattedrale di Montreale si trova una statua di re Guglielmo II. La statua raffigura il re mentre offre il modello della cattedrale alla Vergine Maria, che è posta di fronte a lui. Questa rappresentazione è legata a una leggenda secondo cui la Vergine apparve in sogno a Guglielmo II, indicandogli il luogo dove era nascosto un tesoro che avrebbe usato per costruire la cattedrale. La cattedrale di Montreale, è conosciuta anche come Duomo di Montreale, è uno dei più importanti esempi di architettura normale a Sicilia. La cattedrale fu costruita per volere di Guglielmo II d'Altavilla, re di Sicilia, e fu consacrata nel 1182. Secondo la leggenda, la Vergine Maria apparve in sogno a Guglielmo II, indicandogli il luogo dove era nascosto un tesoro che avrebbe usato per la costruzione della cattedrale. La cattedrale combina elementi architettonici normanni, bizantini, arabi e romanici, creando un'armonia unica e affascinante. La sua facciata principale è decorata con arti intrecciati e mosaici e presenta due torri imponenti. L'interno è famoso per i suoi splendidi mosaici dorati, che compongono circa 6.500 metri quadrati di, raffigurando segne bibliche del Vecchio e Nuovo Testamento. Uno dei punti focali è il mosaico del Cristo pancreatore, nell'abside centrale, che domina l'intera cattedrale con la sua maestosità. I mosaici raffigurano una vasta gamma di scene bibliche, inclusi episodi della vita di Gesù, della Vergine Maria e dei Santi. Dal 2015 la cattedrale di Moreale è parte del percorso di Palermo, arabo-normanno, e la cattedrale di Sheffalù e Moreale, riconosciuti come patrimonio dell'umanità. La cattedrale è una delle principali attrazioni turistiche della Sicilia, attirando visitatori da tutto il mondo, per la sua bellezza e importanza storica. Moreale è una piccola frazione, e i suoi abitanti sono circa 39.000. La cattedrale indicata è una delle attrazioni turistiche più visitate della Sicilia. Ogni anno attira circa più di 600.000 visitatori. La cattedrale di Moreale è un'imponente struttura architettonica, è lunga circa 102 metri, larga 40 metri. La facciata è incorniciata da due torri massicce, tipicamente norman, anche se una delle torri non è mai stata completata. È possibile salire sui tetti della cattedrale di Moreale per godere una vista panoramica mozzafiato sulla città e sui dintorni. L'accesso ai tetti avviene tramite una scala situata all'interno della cattedrale e chi ha buone ginocchia può ovviamente salire tranquillamente sulla sommità. Le colonne all'interno della cattedrale sono finemente decorate con tessere di mosaico che formano motivi geometrici e floreali. Queste decorazioni aggiungono un ulteriore livello di bellezza e complessità all'interno della cattedrale stessa, rendendolo un vero capolamuro dell'arte normana. I capitelli delle colonne sono anch'essi decorati e raffigurano sete mitologiche e storie del Vecchio e Nuovo Testamento. Questo dettaglio artistico contribuisce a creare un ambiente ricco di simbolismo e significato religioso. Il Duomo di Monreale possiede tre navate. La navata centrale è larga il doppio delle navate laterali e tutte e tre terminano nel transetto e nelle tre assidi situate in fondo. Il Duomo contiene diverse cappelle laterali tra cui le più note sono la cappella di San Giovanni Battista, la cappella di Santo Castrense, cappella di San Benedetto e cappella del Crocefisso. Diversi papi hanno visitato il Duomo di Monreale nel corso degli anni. Tra questi, Papa Giovanni Paolo II visitò il Duomo il 20 novembre del 1982. Più recentemente, Papa Francesco ha visitato il Duomo il 15 settembre del 2018. I capitelli e le sculture dei leoni presenti nel Museo Diocesano di Monreale risalgono al periodo normanno, quindi al XII secolo. Queste opere sono parte integrante del ricco patrimonio artistico del Duomo e del Chiosso, che riflettono l'influenza delle diverse sculture che hanno dominato la Sicilia in quel periodo, tra cui quella normanna bizantina e araba. La scultura della Madonna con Bambino nel Museo Diocesano di Monreale è una delle opere più significative. Questa statua, conosciuta anche come Madonna del Popolo, è stata realizzata in legno, policromo e risale alla metà del XVI secolo. La Vergine è raffigurata con il bambino in braccio avvolta in vesti riccamente decorate. Il Museo Diocesano di Monreale Questo museo ospita una vasta collezione di opere d'arte religiosa, tra cui dipinti, sculture e oggetti liturgici. Tra le opere esposte ci sono lavori di artisti famosi come Pietro Novelli e Antonello Gagni. Il Museo Diocesano di Monreale ospita una vasta collezione di opere d'arte religiose. Tra le più significative ci sono fibula in argento dorato e pietre policrome realizzate da un orfo siciliano intorno al 1592. Pastorale, la filigrada d'argento, rame dorate e pietre policrome, opera di un argentiere messinese del 1692. ostensorio in filigrada d'argento e pietre policrome, anch'esse del 1692. Croce a stile, in argento sbalzato e cesellato, realizzata da un argentiere siciliano nell'ultimo trentennio del XVII secolo. San Michele Arcangelo in alabastro, opera di maestranze trapanesi dell'ultimo ventennio del XVII secolo. Piviale in raso ricamato datato intorno al 1692. Queste opere rappresentano solo una parte della ricca collezione del museo che include anche dipinti, sculture e altri oggetti liturgici di grande valore storico e artistico. Il chiostro della Cattedrale di Monreale è uno dei capolavori dell'arte normanni a Sicilia. Costruito tra il 1170 e il 1180 fa parte del complesso monastico benedettino voluto da Guglielmo II. Il chiostro ha una pianta quadrata di 47 metri per lato con arcate a sesto acuto sostenuto da colonne gemelle decorate con intarsi, mosaici e motivi arabbezzanti. Ogni colonne è unico con capitelli finemente scolpiti che rappresentano sene bibliche, animali e motivi vegetali. Questo spazio era il cuore della vita monastica dove i monaci passeggiavano, meditavano e svolgevano le loro attività quotidiane. Oggi il chiostro è una delle attrazioni principali per i visitatori del Duom. Il chiostro è composto da 228 colonne. Ogni lato del chiostro ha 26 arcate a sesto acuto sostenuto da colonne gemelle che contribuisce alla sua straordinaria bendezza. A presto! A presto! A presto! All'interno del chiostro della cattedrale di Monreale si trova la fontana del Re. Questa fontana è situata nel chiostrino, un piccolo chiostro quadrato all'angolo sud ovest del chiostro principale. La fontana è caratterizzata da una vasca rotonda da cui si innalza una colonna intagliata a forma di fusto di palma stilizzata. La colonna è adornata con figure che rappresentano arti come la musica e la dana. Dalla sommità della colonna dodici bocche leonine lasciano sgorgare acqua della vasca creando un'atmosfera di pace e serenità unica. Sul lato interno del chiostro della cattedrale di Monreale ci sono numerose opere scolpite in pietra e marm. Le colonne del chiostro sono particolarmente note per i loro capitelli finemente scolpiti che rappresentano una varietà di sene bibliche, animali, motivi vegetali e figure mitologi. Ogni capitello è unico e mostra l'abilità degli artigiani che li hanno realizzati. La facciata dell'uomo di Monreale è un esempio straordinario di architettura Norman con influenze arabe-bizantini. Costruita a partire dal 1172 per volere di Cuglielmo II di Sicilia la facciata è caratterizzata da due torri di altezze diverse una delle quali fu parzialmente danneggiata da un fulmine nel 1807. Il portico della facciata giunto nel XVIII secolo è in stile barocco e si apre con tre archi a tutto sesto poggianti su Colombo Tuskankit. Come si può vedere da quest'altura la foschia è notevole. Peccato perché si potrebbe vedere un bellissimo panorama. Noi siamo prossimi al ritorno a Palermo stiamo aspettando il bus del servizio urbano dopodiché prepareremo le nostre cose e in serata andremo a mangiare come solito in un ristorante molto molto apprezzato per le cose speciali che riesce a fare. Poi il mattino seguente partiremo da Palermo per ritornare a Mologna e di conseguenza col pulmine ritorneremo a Modena per vedere i nostri cari questa enorme piazza è Piazza Giulio Cesare l'immagine che si vede è la sede della ferrovia dei treni da questa piazza partono sia percorsi di mezzi o panni che percorsi di autobus rivati che ti portano in tutte le direzioni della città pertanto il turista è avvantaggiato perché da qui è il fulcro da dove può scegliere le varie destinazioni che vuole visitare questo porticato è un luogo a me molto caro tutte le sere andavamo a mangiare lì e si mangiava molto bene specialmente gli spaghetti allo scoglio che erano porzioni familiari ma non abbiamo lasciato niente anzi abbiamo addirittura fatto anche la scarpetta a Grazie a tutti. Grazie a tutti.